ciao a tutti oggi siamo a trani nel cuore della zona pozzo piano ottimamente servita da tutte le attività di primaria importanza e da pochi passi da lungo mare di trani vi presentiamo un appartamento finemente ristrutturato di circa 140 metri quadri con ambienti confortevoli e ben delineati marcando la porta d'ingresso ci accoglie un ampio e luminoso salone con uscita sul balcone la zona giorno è composta da una cucina abitabile anch'essa con balcone e vanno lavanderia appinestato dal disimpegno accediamo nella zona notte composta da due camere da letto di cui una con cabina armadio ed un'ampia camera matrimoniale con affaccio su via donua nello stesso troviamo un comodo bagno padronale servito da un ampio box doccia completa la proprietà un posto auto scoperto in area condominiale recintata non perdere l'opportunità di vivere in una delle zone più belle di trani ciao alla prossima